Buonasera a tutti, mi presento, sono Andrea Gion, cantautore paternitano, e ho il piacere di farvi ascoltare per la prima volta in assoluto una canzone che ho composto due mesi dopo la scomparsa di Frate il Viaggio, il brano si chiama appunto Frate il Viaggio Conte, e l'ho scritto con tutto il cuore, e ci tengo veramente a condividerlo con voi in questo momento speciale. Una cosa molto importante, da ieri sera questa canzone è disponibile su tutti i digital store, quindi tutto il mondo può già ascoltare la canzone su Spotify, Apple Music, su YouTube, c'è il videoclip, dove tra l'altro quando l'ho montato in anteprima ho avuto modo di conoscere anche voi, di conoscervi di presenza è una gioia bellissima. Una cosa molto importante, ci tengo particolarmente che questa canzone cresca, perché comunque tutti i proventi di questa canzone saranno devoluti alla missione Speranza e Carità, quindi aiutatemi a portare avanti questo brano in ricordo di Frate il Viaggio. Speranza e Carità, quindi aiutatemi a portare la canzone Speranza e Carità, quindi aiutatemi a portare la canzone della vita a piedi, fino ad Assisi, il viaggio d'angeli e segni intrisi, vedevi una Palermo partoriata, comertosa indifferente, non riuscivi a sopportare il dolore altrui e lo volevi alleviare. La stazione è sala d'aspetto, negli angoli della città, di tutti gli ultimi che tu chiamavi fratelli. La vera felicità è il tempo speso per dare al prossimo maggiore di speranza in più. Giovanni siete il futuro, verso un mondo più puro, fatto d'umile carità, pane e latte d'amor. L'autogesto per chi solo più sarà è accolto dalla tua volontà. La vera felicità è il tempo speso per dare al prossimo maggiore di speranza in più. Si lascia con un abbraccio eterno in inverno, dal disinfettatore comune. Un uomo rinascerà da quell'agra perché lui creò anche per te. La vera felicità è il tempo speso per dare al prossimo un bagliore di speranza in più. Giovanni si è del futuro verso un mondo più puro, porto d'umile carità, panellate d'amore. L'autocesto per chi è solo e più non sarà, è accolto dalla tua bontà. Voi siete il futuro e la speranza, giovani. Io ero di voi in questa società, ma noi vi siamo vicino. La vera felicità è il tempo speso per dare al prossimo un bagliore di speranza in più. Giovanni si è del futuro verso un mondo più puro, porto d'umile carità, panellate d'amore. L'autocesto per chi è solo e più non sarà, è accolto dalla tua bontà. L'autocesto per chi è solo e più non sarà, è accolto dalla tua bontà. L'autocesto per chi è solo e più non sarà, è accolto dalla tua bontà. Grazie veramente per il tuo suggesto. Iniziamo con la... Grazie. 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 Grazie.